Come ti chiami e quando sei nata? Mi chiamo Deveco Rosena, nata sotto il Castello di Brolo, il 1929 del primo giugno. Mi chiamo Franca Raffa, sono nata a Catania il 17 marzo del 1957. Mi chiamo Esther Arasi, sono nata a Patti il 9 agosto del 2011. Come trascorrevi il Natale quando eri più piccola? Per Natale facevamo i biscotti in casa perché allora non c'erano i bar, non c'era niente e quindi facevamo le noccioline, le noccioline chiamavamo le pizzatone, facevamo le filoncine di pane e mettevamo dentro le noccioline. Poi i nonni preparavano i biscotti in casa, pure noi andavamo a fare visita, a fare gli auguri, si mangiava pure in famiglia. I nonni davano regalini ai nipoti, i soliti biscotti, le noccioline con il pane e noi portavamo i nonni, chiamavamo i pone, che erano delle camicette belline che si portavano per gli anziani e quindi si passava a giocare le carte alla tombola di più perché la tombola era più grande da giocare e quindi veniva meglio essere di tutti in compagnia. Andavamo tutti i nipoti, i miei nonni e stavamo insieme, passavamo le serate e si andava avanti così. Beh ai miei tempi quando ero piccola il Natale si passava sempre in famiglia in ogni caso. Siccome noi abitavamo a Catania, per Natale però andavamo a Tortorisci, nel paese dei miei, dove c'erano i nonni, i zii, i cugini e quindi si passava questo Natale tutti quanti insieme, attorno al bracere per riscaldarci, con la nonna che raccontava le fiabbe e poi c'erano i pranzi, le scene che erano sempre complicate. Si cucinava il sugo di maiale con la salsiccia, la carne, le polpette, la pasta di casa. Ovviamente non esistevano ancora i panettoni quando ero piccola io e quindi si mangiavano il pan di spagna, le torte fatte in casa, i biscotti, le giammelle, come le chiamavamo la noi a Tortorisci. E niente, poi si giocava a tombola con i cugini, gli zii, insomma si rideva, si scherzava e questo era tutto il Natale, molto familiare. Mi piace il Natale perché facciamo l'albero di Natale, lo mangiamo tanto, ogni Natale abbiamo un pigiama tutti uguale e ci riuniamo in famiglia e ricevamo tanti regali. Buonasera a tutti! Buonasera a tutti! Grazie a tutti!